Occhio qui alla ripartenza del Frosinone con Cipsa, vince un rimpallo, attenzione Ciofani, Ciofani, Ciofani! Il pareggio del Frosinone con Daniel Ciofani, un gol stupendo del numero 9 della squadra di Roberto Stellone, un controllo fantastico quello di Daniel Ciofani che ha messo il pallone alle spalle di Scesni, il quinto gol in campionato di Daniel Ciofani e dopo 6 minuti dal vantaggio della Roma il Frosinone perviene al pareggio. Grazie a tutti!